Ciao amici degli ascoltabili, io sono Vitridente, metà del podcast del disagio e sono qui nella newsletter degli ascoltabili per annunciarvi che il 3 aprile qui a Parma ci sarà il primo live del disagio. Ci sarà uno show con me, con la Ceci, con la Sibilla delle Stelle Mattia Pianieri, con Mattia Sterzi, live in cui registreremo una puntata del podcast del disagio. Se volete partecipare tutte le info sono nella bio degli ascoltabili, nella mia bio su Instagram e nella bio della community del disagio, ci sarà la cena più show. Noi aspettiamo, non vedo l'ora, ci vediamo là, ciao!